E' l'inaugurazione di un nuovo treno per pendolari di Trenitalia all'occasione per complicare ancora di più i rapporti tra Palazzo Santa Lucia e Palazzo San Giacomo. Dal treno Jez alle funicolari di Napoli, il passo è breve, i trasporti ovviamente, il terreno individuato dal governatore Vincenzo De Luca per riattizzare la fiamma dello scontro con il sindaco De Magistris. La chiusura anticipata per la malattia dei capi servizio, che ha lasciato per quattro giorni di fila appiedati gli utenti di tre funicolari, non è andata giù al presidente della regione Campania. Ma sappiamo ovviamente che questa è la croce che abbiamo per il trasporto in Campania. La croce è la città di Napoli dove l'azienda di proprietà del Comune di Napoli continua a versare una situazione di crisi drammatica. Devo dire francamente che mi colpisce molto il fatto che non si riescano a tenere attive neanche le funicolari. E che diavolo! Io posso capire i problemi aziendali, ma almeno la funicolare, e teniamola per. Non mi pare un grandissimo impegno. Vediamo, noi stiamo seguendo ovviamente questa avvertenza da anni. Per quello che ci riguarda, come sapete, stanziamo 55 milioni di euro ogni anno per l'azienda di proprietà del Comune di Napoli, per la quale il Comune di Napoli non stanzia neanche un euro. Di certo c'è che non ha aiutato nei rapporti tra i due rappresentanti delle principali istituzioni cittadine l'ipotesi che De Magistris possa candidarsi alle regionali come avversario dell'ex sindaco di Salerno. Per litigare bisogna essere in due. Per adesso c'è uno solo che lavora, quindi è difficile litigare. Con chi devo litigare? Dopodiché non c'entra assolutamente niente i rapporti, relazioni. C'è un'azienda di proprietà del Comune per la quale il Comune deve preparare un piano aziendale. Punto. Se lo prepara, bene. Se non è in grado di far male. Che c'entrano le altre questioni di relazione?